La lista. Nicolai Vasilievic Gogol. Le anime morte. In due ore fu tutto pronto, quando poi diede un'occhiata a quei foglietti, ai contadini che un tempo erano stati davvero contadini, avevano lavorato, arato, si erano ubriacati, avevano fatto i vetturali, avevano imbrogliato i padroni, oppure forse erano stati semplicemente dei bravi contadini, allora una sensazione strana, incomprensibile a lui stesso, lo assalì. Ognuna delle noticine pareva avere un suo carattere particolare e per questo pareva che i contadini stessi acquistassero un loro proprio carattere. I contadini appartenuti alla Corboeca avevano quasi tutti aggiunte e soprannomi. La lista di Pliushkin si distingueva per l'essenzialità dello stile. Spesso erano segnate solo le iniziali di nomi e patronimici, con i due puntini. La lista di Sobakejevic colpiva per la straordinaria completezza e precisione. Nessuna delle qualità del contadino vi era stata tralasciata. Di uno si diceva, bravo Falegname, all'altro era giunto, è un lavoratore esperto e non tocca alcolici. Era anche indicato circostanziatamente chi era il padre e chi la madre, e qual era stata la condotta di entrambi. Solo di un certo Fedotov stava scritto, il padre non si sa chi sia, è nato dalla servetta capitolina, ma ha un buon carattere e non ruba. Tutti questi dettagli producevano una particolare impressione di freschezza. Sembrava che i contadini fossero stati vivi fino al giorno prima. Guardando a lungo i loro nomi, egli si intenerì e sospirando disse, Santo cielo, in quanti siete finiti qui? Che cosa facevate, miei cari, nella vita? Come tiravate avanti?